Come Uila avete invitato la Fondazione Empay a fare un salto di qualità, alzando l'asticella con un largamento della platea. Ci può illustrare in dettaglio questa proposta? Credo che sia la scommessa da vincere o da provare a vincere almeno per i prossimi mesi per quanto riguarda la Fondazione e per quanto riguarda le organizzazioni, le forze sociali che la compongono. E avere l'obiettivo di allargare gli iscritti da alcune decine di migliaia come sono oggi a un milione e oltre di lavoratori interessati, credo che sia un obiettivo che forse da una parte può far tremare le vene ai polsi, però in un contesto come questo è un obiettivo da cogliere. Noi vivremo un 2022 e con gli anni successivi sarà un anno di clamorosi cambiamenti. Da un punto di vista della formazione, da un punto di vista dell'occupazione e quindi a maggior ragione bisogna porsi l'opportunità di cogliere sfide importanti come questa. L'empaia oggi è un gioiellino, non dobbiamo vivere sugli allori, dobbiamo invece puntare a far sì che la professionalità, le conoscenze che la contraddistinguano possano essere utilizzate anche da altri attori, quindi gli operai agricoli in primo luogo e poi anche tutti i lavoratori autonomi e gli imprenditori dell'agricoltura. Grazie a tutti.